Non sono briciole. Secondo l'Internal Revenue Services americano ci sono circa 1.100 REIT statunitensi che hanno presentato dichiarazioni fiscali e di questi ce ne sono più di 225 negli Stati Uniti d'America che sono registrati presso la SEC che negozino su una delle principali borse valori, la maggior parte sul NYSE. Questi REIT hanno una capitalizzazione di mercato complessiva di oltre un trilione di dollari. Più di 40 paesi e regioni nel mondo hanno adottato l'approccio statunitense nel REIT per gli investimenti immobiliari offrendo a tutti noi investitori l'accesso a portafogli di immobili ampiamente diversificati. Oltre a ciò la nascita di molti fondi comuni di investimento ad esempio ma anche e soprattutto degli ETF settoriali ha dato spunto per un più semplice ed efficiente modo di addizionare una maggiore diversificazione. Ma la domanda di questo video è, ha ancora senso investire in REIT? Lo decidiamo assieme. Bentornato, ultimo video prima delle mie vacanze, infatti non pubblicherò per una decina di giorni dopo questo video. Cercherò di essere comunque presente con Reels e Short sempre che io sia ancora vivo alla fine di queste vacanze. Momento allegria. Puntualizziamo un paio di cose prima di iniziare. In tutto il mondo sono quotati al momento 893 REIT con una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 1.9 trilioni di dollari. Questo perlomeno è il dato aggiornato al dicembre 2022. Come mostrano i grafici seguenti, i REIT sono cresciuti notevolmente sia in numero che in capitalizzazione di mercato negli ultimi 30 anni, passando dai 120, quotati in due paesi, a 893, quotati in oltre, come dicevamo prima, 40 paesi o regioni del mondo. Con la diffusione globale del modello REIT, i paesi e le regioni attuali con REIT rappresentano l'83% del PIB mondiale nel 2021, in aumento del 28% del PIB mondiale del 1990. Il PIB dei paesi e delle regioni con REIT è aumentato da 6.5 miliardi di dollari a quasi 98 trilioni di dollari in questo arco temporale. Ma questo cosa significa? Che molto probabilmente possiamo legare molto il benestare di una nazione con la capacità di questa di creazione di nuovi immobili e per cui anche della crescita del valore dei REIT, se ovviamente gestiti bene. Ovviamente, puntualizziamo, non è l'unico fattore da valutare nella ricchezza di un paese, ma a mio parere è sicuramente un ottimo indicatore. Ma facciamo un bel passetto indietro. Cosa è un REIT? Un REIT è una società di investimento immobiliare e un'azienda, in pratica, che possiede, gestisce o finanzia immobili che producono del reddito. I REIT nel mercato americano contribuiscono maggiormente all'economia nazionale fornendo gran parte degli immobili in cui le persone, come noi, vanno a vivere, vanno a lavorare, fanno acquisti e magari trascorrono il loro tempo libero. Inoltre, i REIT consentono l'economia digitale odierna e la comunicazione con immobili come ad esempio quelli che gestiscono le torri di comunicazione, i centri dati e le strutture logistiche. In genere, possiamo trovare quattro caratteristiche distintive per un Real Estate Investment Trust o Short Short, i REIT. Sono ampiamente detenuti da dei partecipanti, investono principalmente in immobili o generano la maggior parte dei redditi d'attività immobiliari, distribuiscono la maggior parte dei loro redditi agli azionisti e poi sono soggetti a una singola imposizione fiscale a livello degli azionisti. Ma, se dobbiamo valutare se investire in REIT convengo o no, secondo me non bisogna fare un ragionamento di singolo ETF o di singola azienda. Bisogna in più approcciarsi a un ragionamento più macroeconomico o microeconomico dell'area in cui il REIT va ad operare. Del tipo, avrà senso che un REIT esista nel futuro? E se così fosse, avrà approfittabilità tale da rendere un investimento in quest'asset class ancora conveniente in termini di capital gain e di dividend growth? Vediamo punti a favore e sfavore. Partiamo dai punti a favore. Il primo, la crescita lavorativa. A livello globale, i REIT sono responsabili di significative entrate fiscali generate sia a livello di azionisti, dove vengono imposte le tasse, sia riguardo ad altri aspetti della loro attività, inclusi i contributi previdenziali, l'IVA e le tasse sulla proprietà. Inoltre, l'attività economica di REIT sostiene l'occupazione e la crescita economica di quell'area in cui opera, attraverso le persone che va a impiegare direttamente, ma anche attraverso i beni e i servizi che acquistano da terzi, le strutture che sviluppano e che vanno a costruire e acquisano magari da terzi e i dividendi e gli interessi che vanno a parare a noi investitori. Per questo motivo impiegano analisti, gestori immobiliari, responsabili della sostenibilità e professionisti delle risorse umane. Quelli che gestiscono fisicamente le loro proprietà possono anche impiegare direttamente figure come personale che va a effettuare la manutenzione degli immobili, servizi di custodia, servizi di ristorazione e tantissimi altri. Ad esempio, negli Stati Uniti d'America, che è il mercato più grande dei REITs, nel 2021 i REITs hanno sostenuto circa 3.2 milioni di posti di lavoro a tempo pieno equivalenti, con 307 mila dipendenti a tempo pieno impiegati direttamente dal REITs stesso. Secondo, economia innovativa. I REITs sono stati innovatori del settore immobiliare per decenni. Una delle innovazioni più importanti è stata la creazione di un efficace allineamento degli interessi fra i gestori e i REITs, e attraverso gli interessi anche degli investitori per il capitale permanente, il pagamento dei dividendi e anche una struttura di governance aziendale nonché sono stati anche costantemente precursori nell'attirare capitale istituzionale in nuove e emergenti aree immobiliari. Per esempio, alcuni dei settori innovativi cavalcati da queste aziende includono il self-storage, l'assistenza sanitaria, gli hotel, le strutture ricettive, ma anche cose più semplici come i cartelloni pubblicitari e i timber REITs, quelli su legname. Anche altri settori continuano ad aggiungersi come gli spazi per la ricerca scientifica, i laboratori, lo stoccaggio a freddo, l'affitto delle case unifamiliari, i casi no, i giochi d'azzardo, ma veramente ogni settore nuovo che va a crearsi trova un ambiente in cui essere immobiliare. 3. Gli investitori. L'immobiliare commerciale è una delle classi di asset class fondamentale e i REIT rappresentano un mezzo di investimento a basso costo, efficace e liquido per investire nel settore immobiliare. L'investimento in REIT contribuisce a costruire portafogli diversificati che coprono l'intera ampiezza dei mercati di investimento e l'immobiliare commerciale ha storicamente apportato attributi unici a un portafoglio, fra cui ricordiamo, anche se non sono gli unici, un ciclo economico distintivo rispetto alla maggior parte delle altre azioni e obbligazioni, un potenziale di protezione dall'inflazione dato dai dividendi, rendimenti redditizi e misurabili. Storicamente in senso ampio REIT hanno ottenuto rendimenti totali e competitivi basati su dividendi elevati e costanti e l'apprezzamento del capital gain nel lungo termine. La loro bassa correlazione con gli altri asset li rende anche un eccellente diversificatore di portafoglio che può contribuire a ridurre il rischio complessivo del portafoglio e anche aumentare i rendimenti. Ma ovviamente non sono tutte cose belle, ci sono anche molti punti negativi, molti punti a sfavore da prendere in considerazione o meglio, dei rischi da includere nella valutazione se inserire o meno i REITs nei propri portafogli. Andiamo a vederli. 1. I tassi di interesse I REITs possono essere negativamente influenzati dall'aumento dei tassi di interesse a causa della loro sensibilità ai cambiamenti dei costi di prestito e delle aspettative di rendimento. Il perché a mio parere va di siedere in 5 punti particolari. 1. La sensibilità diretta ai tassi di interesse Quando i tassi di interesse aumentano i costi di prestito per i REIT possono aumentare. Molti REIT si affidano al debito per poter finanziare l'acquisizione e le operazioni all'interno delle proprie proprietà. Costi di prestito più elevati possono portare a una riduzione della redditività e del flusso di cassa influenzando potenzialmente le loro capacità di distribuire i dividendi agli azionisti. E noi i dividendi li vogliamo. Poi abbiamo anche una concorrenza sui rendimenti. I REITs sono spesso considerati investimenti generatori di reddito grazie ai loro pagamenti di dividendi. Quando i tassi di interesse aumentano i rendimenti sugli altri investimenti a reddito fisso come ad esempio i bond o diciamo all'italiana le obbligazioni diventano più attraenti rispetto ai rendimenti dei dividendi di REIT. Ciò può portare gli investitori a spostare i loro fondi, i loro capitali, dai REIT verso asset a rischio più basso ma che comunque hanno un rendimento fisso causando una diminuzione della domanda di azioni di REIT e potenzialmente abbassando i loro prezzi e per cui anche quello che è il nostro capital gain. Abbiamo anche un impatto sul tasso di sconto. La valutazione di REIT è influenzata dal tasso di sconto utilizzato per determinare il valore attuale dei loro flussi di cassa futuri. I tassi di interesse più elevati possono aumentare il tasso di sconto riducendo il valore attuale di quel flusso di cassa futuro e potenzialmente portando a valutazioni più basse per i REIT. Poi abbiamo i tassi di capitalizzazione. L'aumento dei tassi di interesse può influenzare i tassi di capitalizzazione utilizzati per determinare le valutazioni delle proprietà. Se ad esempio il tasso di rendimento richiesto degli investitori immobiliari aumenta a causa appunto di tassi di interesse più elevati le valutazioni delle proprietà potrebbero andare a diminuire influenzando il valore delle proprietà immobiliari che i REIT osseggono. Infine abbiamo il finanziamento delle proprietà e delle vendite. I REIT appunto possono spesso rifinanziare le loro proprietà quando i debiti vanno a scadere o quando vanno ad acquisire delle nuove proprietà. I tassi di interesse più elevati possono rendere più costoso il finanziamento appunto delle proprietà influenzando a questo punto sempre potenzialmente le loro strategie di acquisizione. Inoltre i tassi di interesse più elevati possono anche fare cosa? Portare a una minore domanda di acquisti immobiliari influenzando potenzialmente la capacità che i REIT hanno di vendere le proprietà a dei prezzi che siano a loro favorevoli. Il secondo punto a sfavore per chi vuole investire in REIT potrebbe essere la crescita lenta. Infatti i REIT potrebbero registrare una crescita del capitale più lenta a causa di diversi fattori legati alla loro struttura e alla loro natura degli investimenti. Alcune ragioni per cui i REIT potrebbero avere una crescita del capitale più lenta rispetto ad altre opzioni di investimento potrebbero essere queste. Prima di tutto la distribuzione dei dividendi, i nostri cari amati dividendi. Per legge i REIT sono tenuti a distribuire una parte molto significativa dei loro guadagni sotto forma di dividendi agli azionisti, questo per avere uno sgravio fiscale. Ciò lascia loro minori utili trattenuti da reinvestire nell'azienda per la crescita. Sebbene questo approccio focalizzato su dividendi attragga molti investitori interessati al reddito costante può comunque limitare l'ammontare di capitali disponibili per espansione e iniziative di crescita. Poi abbiamo anche il fatto che è un investimento a lungo termine. Molti REIT si concentrano sull'acquisizione e il possesso di proprietà generatrici di reddito a lungo termine. Sebbene questo fornisca un reddito da affitto stabile potrebbe anche comportare una crescita del capitale più lenta rispetto a strategie di investimento più aggressive che vanno a prevedere frequenti acquisti e vendite di asset per l'apprezzamento appunto del capitale. Questo perché gli affitti magari non vengono aggiornati nell'arco del tempo o motivi simili. Poi c'è anche una dipendenza dal mercato immobiliare che è appunto il core business dei REIT. Le performance dei REIT sono strettamente legate alle performance del mercato immobiliare globale del paese in cui vanno a investire. Se il mercato immobiliare attraversa periodi di crescita lenta o peggio di detino, beh questo può influenzare il valore delle proprietà sostostanti detenuti dal REIT stesso e di conseguenza la loro crescita del capitale. Questo va a influire anche sulle valutazioni delle proprietà. Il valore delle proprietà detenuti da REIT potrebbe non aumentare rapidamente o magari mai. I valori delle proprietà sono influenzati da fattori come la domanda del mercato, la posizione in cui gli immobili si trovano, le condizioni economiche e le tendenze del settore specifico di quella particolare proprietà. Una crescita più lenta del valore delle proprietà può tradursi in una crescita più lenta del capitale dei REIT. E poi, come abbiamo accennato in precedenza, impattano anche i tassi di interesse. Infatti l'aumento dei tassi di interesse può avere un impatto negativo sui REIT. Costi di prestito più elevati possono andare a limitare la capacità dei REIT di finanziare nuove acquisizioni e nuovi progetti di sviluppo, rallentando di conseguenza la crescita del capitale del REIT stesso. Poi c'è anche un indicatore un po' più psicologico, quello della percezione del mercato. I REIT sono spesso valutati in base ai loro rendimenti da dividendi anziché esclusivamente all'apprezzamento del capital gain o di quel capital gain potenziale. Questa percezione un po' strana e stupida, a mio parere, può comportare una minore domanda da parte degli investitori per la crescita del capitale e potrebbe portare un focus sulla generazione di REIT costante sotto forma di dividendi, tralasciando appunto quello che può essere il relativo guadagno, quello del capital gain. 3. La correlazione azionale, infine abbiamo questo parametro che va a comparare appunto i REIT con il mercato azionario e può parare in base a diversi fattori fra cui il periodo considerato, il contesto economico e le condizioni di mercato. Tuttavia in generale i REIT tendono ad avere una correlazione modesta e moderata con il mercato azionario, infatti durante i periodi di stabilità economica e mercati che sono prevalentemente tranquilli, i REIT possono avere una correlazione bassissima con il mercato azionario. Ciò è spesso dovuto alla natura dei beni immobiliari che costituiscono il portafoglio REIT che possono avere dei ritmi di apprezzamento e anche di diprezzamento e fruttazione del valore differenti rispetto alle azioni normali delle aziende normali. Tuttavia durante i periodi di stress eccessivo finanziario o di incertezza economica la correlazione tra i REIT e il mercato azionario potrebbe aumentare in maniera molto importante, cioè dovuto al fatto che i REIT possono essere influenzati da fattori economici e finanziari, quelli di cui abbiamo parlato prima che vanno a influenzare anche il mercato azionario, che appunto ricordiamo essere i tassi di interesse, la differenza fra domanda e offerta di immobili e le prospettive economiche generali del mercato. In ogni caso fatemi aggiungere che i REIT sono un tipo di asset diversificato poiché vanno a rappresentare investimenti nell'immobiliare che può avere comportamenti di mercato completamente diversi rispetto alle azioni o comunque ad altri tipi di asset classe di investimenti. Pertanto includere i REIT in un portafoglio può contribuire a ridurre la correlazione complessiva con il mercato azionario e migliorare a mio parere la performance e la diversificazione, ovviamente se ben pianificato. Per cui il mio giudizio finale è che comunque conviene investire in questa asset class perché la bilancia fra svantaggi e vantaggi dipende verso questi ultimi e soprattutto perché nel lungo termine si hanno performance veramente eccezionali. Basta guardare questo grafico degli ultimi 20 anni che vi mostro adesso. Questo cosa significa? Che nei prossimi 20 anni sarà questo il rendimento? Sarà uguale? No. Cosa significa? Che nei prossimi 20 anni ci andiamo a aspettare un rendimento peggiore? Neanche. Vi dico solo che dovete essere investitori, consapevoli e con la testa sulle spalle. Tra l'altro le fonti che ho utilizzato per la creazione di questo video le trovate qui sotto nella descrizione. Come sempre ricordandoci questi non sono consigli a investire o a non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento. In ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a far parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. Io ti saluto e ti dico a rivederci a un prossimo video e buone vacanze per chi ancora non c'è andato e buone vacanze per chi ci andrà.